L'ingrediente che non escerai mai a casa, anche se è un po' stagionale, quindi ogni tanto mi tocca, sono gli asparagi. Sì, a volte capita di coinvolgere le canzoni e la musica nei piatti, non nei titoli della ricetta o queste cose qua, ma magari un piatto un po' più pop, un po' più rock, quindi sì, mi capita ogni tanto. Nel mio frigo non deve mai mancare un bel vino con le bollicine. Il mio piatto portafortuna è un piatto a base di pasta, un risotto comunque, un primo piatto. Tradizionale la mia cucina tutta la vita. Il mio piatto preferito è la pasta, è banale, ma è la pasta, è la pasta e la pizza. Il mio eroe in cucina Giancarlo Perbellini. La pasta, il pane e la pizza, carboidrati. Io avrei voluto fare il calciatore, ma... Allora, uno dei miei ristoranti del cuore è il ristorante romano a Viareggio, dove ho anche lavorato. L'ultimo libro di cucina che ho letto è un libro dei fratelli Rocca, perché sono stato a cena poco tempo fa. Il complimento più bello è che quando lavoriamo abbiamo sempre una grande pulizia intorno. Ma quello che mi ha portato a fare questo lavoro qua sicuramente è l'esempio dei miei zii e del San Domenico. Il sorgelato in cucina penso che quando è fatto bene vale la pena utilizzarlo. Dipende sempre dalla qualità, dalla base di partenza. L'aspetto di Divine Creazioni mi ha impressionato di più è proprio questa, posso dire, similitudine alla realtà. C'è un prodotto vero che non c'entra niente con una cosa surgelato o industriale. La fotografia che mi porterò dietro sono state tutte queste persone davanti, non ero abituato.